Cosa consiglia oggi Penny? Penny consiglia una bella zuppa di cesci e castagne con i maltagliati. Dopo aver messo in almollo i ceci secchi per 24 ore all'interno di un contenitore con dell'acqua con un pizzico di bicarbonato, lavateli sotto l'acqua corrente e dopo averli scolati bene fateli bollire in una pentola con un litro di acqua. Appena cotti, frullate nella metà. In una pentola mettete a soffriggere l'olio con l'aglio, il rosmarino, il peperoncino e il prosciutto crudo tagliato a pezzi. Togliete l'aglio, aggiungete i ceci frullati e fate insaporire. Aggiungete poi i ceci interi con la loro acqua di cottura, salate, aggiungete il concensato di pomodoro e del rosmarino fresco. Aggiungete per una ventina di minuti. Nel frattempo fate un incisione orizzontale sul dorso delle castagne e mettere in forno a 200 gradi per 20 minuti. Sbucciatele e tenetele da parte. Aggiungete poi le castagne e i ceci, qualcuna intera e altri a pezzi e continuate la cottura per pochi minuti. A parte cuocete i maltagliati per un paio di minuti, poi scolateli e portateli poi a cottura nella zuppa. Aggiungete acqua secondo il vostro gradimento, la mia famiglia per esempio la preferisce bella corposa come prevede anche la ricetta.